E' scattata questa mattina la nuova stretta del Governo contro la diffusione del Covid, con l'introduzione dell'obbligo di Green Pass base per andare dal parrucchiero o dall'estetista. Una decisione imposta dall'aumento di contagi e decessi. Penso che sia una cosa giusta, comunque perché è una cosa che va fatta e anche il vaccino sono molto favorevole. Il modo che ci serva di uscire da questa situazione è che ormai sta diventando veramente pesante per tutte le attività e anche, immagino, per le persone. Introdotto solo poche ore fa, il Green Pass ha trovato pareri favorevoli anche nella clientela. Quelli che ho provato stamattina non ho avuto nessun tipo di problema, i clienti sono tutti favorevoli, non hanno obiettato niente, diciamo. La prossima scadenza sarà il primo febbraio, quando il certificato verde diventerà obbligatorio anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, oltre che per i negozi. Non servirà per acquistare genere alimentari sia nei negozi al dettaglio, sia nei supermercati, né per andare in farmacia e negozi che vendono prodotti igienico-sanitari o chioschi edicoli all'aperto.